ciao a tutti io sono serena e questo non solo mamme allora il video di oggi in realtà dovrebbe essere un video molto breve giusto per mostrarvi i regalini che ho ricevuto a natale ne approfitto per mostrarvi il nuovo taglio sono praticamente impazzita cioè tipo da questo lato c'è il vecchio taglio perché li ho tagliati corti così e non lo so mi piace molto l'unica cosa è che qui io avendo un vortice si confiano e si alzano e poi ci sono ancora dei capelli che come questo che lungo che praticamente dall'altro lato se ne vengono lì qua quindi penso che alla fine li taglierò io con forbici velocemente non lo so però mi piace un sacco e vi volevo mostrare con l'occasione il trucco di oggi forse qui nello studio si vedono meglio i trucchi che in camera da letto comunque allora non si vedono magari benissimo però forse siamo meglio qui che in camera da letto e lì dietro praticamente c'è l'archivio che è rimasto aperto c'è un po di confusione perché sto preparando il segno posto per il cenone della vigilia e quindi ci sono le mie cose di cartoleria un po ovunque il mio marito entra in questo momento nello studio diciamo che potrebbe avere da ridire qualcosa allora ho utilizzato la age of opulence di cui ho già fatto un video se vi interessa lo trovate nei video precedenti ed è di beauty bay allora già partiamo dal presupposto che è bellissima vediamo qui dentro come si vedono i colori visto che c'è una luce diversa ma lo sapete che forse è molto meglio avere fare video qui come luce rispetto alla camera da letto mi devo organizzare il problema in camera da letto sono più comodo se mi devo truccare a vi dico giusto se vi interessa che cosa ho usato allora ho utilizzato un matitone della kiko come base cremosa poi ho utilizzato jazz questo qui e poche cosa utilizzato prohibition questo qui marrone e una goccia di noir un'antica di noir qui sulla parte finale che si vede mentre qui c'è prohibition nella sfumatura e vabbè ho poi usato come punto luce crash anche se già di suo jazz è molto luminoso e molto bella una riflettenza molto particolare e comunque si imparando ad utilizzarla questa palette è veramente bella sono un po innamorato innamorata anche se vi devo dire che sono ancora più innamorata della jaguar beauty e devo fare per forza un video su quello se mi interessa sulle labbra o head turner che di make up revolution ma vi devo dire la verità questo è una limited edition del periodo natalizio e io non so adesso che lo finirò perché comunque ne è rimasto poco aiutatemi dove posso trovare qualcosa di simile perché il mio nudo perfetto cioè mi sa benissimo ce lo amo devo trovare per forza qualcosa di simile allora vi mostro i regalini di natale abbiamo l'abitudine comunque in famiglia di farci dei piccoli pensierini l'un l'altro anche con un'amica ho questa abitudine ovviamente so sia quella che andata meglio di tutti ovviamente però io non sono andata neanche male allora ho ricevuto qui allora ho due buoni amazon da parte dei miei genitori da parte di mio fratello e poi vabbè c'è il buon amazon anche di sofia perché io praticamente vorrei prendere per la camera di sofia una sedia a sdraio vi spiego perché io ho abituato mia figlia a dormire praticamente da sola nella cameretta sia il pomeriggio che la notte però quale tra virgolette il problema che per me non è un problema lei ha bisogno della mia presenza per addormentarsi quindi io ho trovato scogitato questa cosa di una sdraietta me la sono fatta prestare dei miei quelle che utilizzano praticamente sulla terrazza in quanto hanno un tecolato mia madre ha questa praticamente poltroncina reclinabile sedia reclinabile quelle da giardino ad esterno e io la utilizzo appunto perché mi reclino un po mi poi mi allungo il poggiapiedi e sono comoda sto lì finché non si addormenta leggo il libro sul cellulare dipende il problema è che essendo vecchia io sono un po scomoda anche perché ci sono quelle notti che lei non prende sonno oppure si sveglia più di una volta quindi anche se il pomeriggio io volessi con la scusa addormentarmi insieme a lei è scomoda quindi ne vorrei prendere una che poi quando non servirà più per quel motivo posso spostare tranquillamente nello studio in quanto comunque volevo una poltroncina qualcosa qui nello studio e scusate mi sentivo una cosa sotto i piedi e di conseguenza mi stavo dicendo vorrei qualcosa che non sia la sedia da giardino ma che sia una poltroncina minuta a poter appunto mettere qui che però non sia una poltrona di quella anche perché io ho le porte strette quindi deve essere qualcosa che io riesco a portare da una stanza all'altra senza uccidermi e quindi stavo vagliando su amazon ho visto qualcosa e ho detto fatemi buoni che mal che vada poi mi aggiungo qualcosa io però almeno ho qualcosa di utile poi dovessi cambiare di angolo amazon comunque posso comprare un mare di roba mentre a sofia vorrei prendere la torretta montessoriana praticamente quella che il bambino si mette in piedi di fianco a te ti aiuta per dirti a fare biscotti quelle cose ci sono le sedie sì per carità però a parte la sedia me la può sempre rovinare me la può sporcare però quella comunque una cosa più comoda e più sicura perché comunque alla barra per non farla cadere e poi si trasforma in tavolino che comunque io un tavolino poi per farla giocare seduta quando inizierà a voler scrivere e disegnare io comunque lo volevo quindi con quella o due cose in una è ancora quest'anno che comunque non capisce regali perché non aveva proprio interesse nei suoi regali perlomeno ho preferito fare cose utili come per esempio mio marito le abbiamo preso il sacco per il passeggino perché comunque io in questo modo anche se si fanno le 6 le 7 posso andare a farmi una passeggiata con lei perché sono tranquilla che ben calda piuttosto che doverle mettere una copertina che comunque non è abbastanza calda che magari si sposta e poi comunque utile anche se mi devo spostare io da casa dei miei al freddo un attimo scendere sotto mia nonna al limite insomma a più utilizzi ecco poi vabbè sofia ha ricevuto anche vari giochi per dire ha ricevuto dallo zio il tappeto quello musicale quindi che schiaccia e cia sia i versi degli animali che le note che tipo che puoi suonare proprio ha ricevuto un microfono quindi può fare la musicista tranquillamente e dagli zii di Bologna ha ricevuto una tenda da indiani che nella stanza è troppo bella da vedere praticamente già solamente per il fatto che mi arreda la cameretta 100 punti no è proprio bella e poi lei la adora cioè già adesso si vuole infilare dentro giocare fare ma anche perché io avevo già visto che si infila nella casetta della cuginetta ora la tenda è un po' meno ingombrante della casetta sinceramente quindi è più facile anche da riporre occupa meno spazio nel momento in cui la devi mettere via ma poi è proprio più bella secondo me e quindi gliel'hanno regalata e quella gliela tengo là dentro così ha sia un ambiente per giocare nella cameretta che poi nel soggiorno è praticamente il suo parco giochi perché c'è il recinto dove ci sono i giochi poi ha la parte del tappetino quando invece la lasciamo libera perché magari ci siamo noi nel soggiorno quindi per esempio adesso sta nel recinto che sta giocando tranquilla e poi quegli altri giochi ha ricevuto lei per esempio vabbè i nonni con il buono di Amazon le hanno fatto un peluche poi ci saranno altri giochi, altri regali che devono ancora arrivare perché non abbiamo avuto modo di vederci con le persone e anche dei libri che a me piace tantissimo questa cosa che le hanno regalato i libri sono sempre statissime dei calzini caldissimi, bellissimi, che così pesanti non li avevo visti in giro quindi altrimenti li li avrei presi quindi adoro il fatto che almeno per stare in casa, cioè per corrigarla la notte non le metto magari quegli antiscivolo, non le metto questi che sono belli caldi allora mentre io ho ricevuto questo bagno doccia di bottega verde e il peperosa che è molto buono come ho ricevuto quest'acqua profumata vento del sud di nani con aloe vera bio ha un profumo come di caramello tipo sì, non caramello come forse il profumo tipo zucchero filato dell'acquolina una cosa del genere è molto dolce però mi piace io penso che lo userò più per profumare il bagno mi piace utilizzare l'acqua profumata anche per profumare l'ambiente perché poi in realtà non sopporto molto i profumi addosso a me sono pochi profumi che sopporto questo a lungo andare potrebbe un po' darmi fastidio invece nell'ambiente così poi comunque rimane quella cosa delicata mentre sulla pelle comunque rimane di più poi ho ricevuto a regalo utilissimo un bifasico struccante waterproof occhi labbra della Deborah Milano con... ah non mi ricordo c'è anche una matita 24 ore nera che quelle servono sempre e un mascara con la pochettina quindi utilissimo perché comunque sono tutte cose che io utilizzo e di conseguenza sono sempre quelle le cose utili un altro regalo che ho ricevuto questa pochettina rossa adorabile bellissima e poi questi orecchini fantastici che adesso visto che non ho un attimino visto che non ho gli orecchini indosserò perché non me li sono ancora provati però io ho un problema con gli orecchini ultimamente mi si fa questa cosa più in su non lo so perché perché poi ho paura che alla fine si rompa no ma è fantastico è molto a me mi ha regalato mia cognata ovviamente mi conosce sa che non sono proprio minimal negli orecchini ecco questo non si è tolto però se si è tolto uno perché non si toglie l'altro questo no ha deciso che deve rimanere e va bene lo accontentiamo ma quanto sono belli adesso con questo taglio vabbè sono bellissimi secondo me è bello anche metterne uno e magari cioè magari mettere uno di qua o il contrario e dall'altro lato mettere quello piccolino e non metterli entrambi si sentono sono presenti non sono magari di quelli che comunque sono leggeri quindi significa anche che sono fatti bene perché quando sono così presenti vuol dire che il materiale c'è però sono molto carini mi piacciono secondo me mi stanno bene e ecco questa cosciettina queste sono sempre utili e poi la mia amica mi ha regalato una palettina di Douglas Douglas come la volete chiamare voi cioè già solamente perché c'è la tour Eiffel cioè ditemi voi se non mi conosce sa quanto amo Parigi quindi anche solamente per questa l'avrebbe presa però dentro si chiama Festive Nudes Tenai Shedded Palette allora vediamo se riesco a farvi vedere quanto è carina io in realtà non l'ho neanche sbocciata però l'ho vista che mi piace cioè che sono molto colori miei poi figuratevi regalare a me una paletta vai a colpo sicuro insomma se una persona mi conosce lo sa guardate quanto è bella allora vediamo se riesco forse così riesco a farvi vedere mannaggia così forse così si vedono un po' ma non si vedono quanto sono belli è bellissima allora vi faccio qualche sbuoccio tanto sarà un video abbastanza veloce e questo è l'ultimo regalo quindi ve lo posso sbocciare allora Stardust Pretty Pink un po' polverosi sono però Victorious e Peach Maniac vediamo così sulle dita poi bisogna sempre vedere come lavorano sugli occhi nel senso che adesso sono un po' polverosi e magari non sembrano tantissimo non stanno sembrando sulla mano sono molto più carini anche se per esempio Peach Maniac non mi sta piacendo tanto diciamo che Pretty Pink e Peach Maniac che sembrano avere la stessa texture che sono tipo luminosi però non sono shimmer non stanno facendo una bella figura in questo momento vediamo se riesco a fare qualcun altro Red Fatal Sweetheart Look at You Heart of Glow allora a me gli shimmer stanno dando un'impressione migliore vediamo se faccio così c'è gli shimmer quelli proprio con i brillantini dentro secondo me daranno più piacere nell'utilizzo e poi Stronger Fessy Golden allora facciamo Stronger no ecco Stronger è il più bello non so se si percepisce la bellezza vediamo se faccio così ecco è proprio bello riflettente è bellissimo devo fare un trucco con Stronger e poi Stay Golden che è un dorato come se battesse sul verde è proprio bello però secondo me questa è una di quelle palette che se la swatch dici però potrebbe sapendola usare potrebbe dare dei risultati carini allora io credo di aver mostrato tutti i regali ci siamo mantenuti nei 20 minuti avrei potuto anche fare più veloce ovviamente parlo sempre un po' del nulla ma vabbè vi dico solamente che ho pezzi di ombretto sui pantaloni per dirvi quanto è polverosa però bisogna usarla per decidere niente vi saluto ci vediamo nel prossimo video